Buongiorno a tutti, eccoci qui tornati dopo una lunga pausa anche con Luizio. E qualche problemino se ti ricordi. Anche qualche problema, vabbè, ma non lasciamo, andiamo avanti, guardiamo al futuro, guardiamo al futuro. Come diceva un mio vecchio professore, uno sguardo al futuro senza dimenticare il passato. E allora, l'occasione di oggi, tra l'altro oggi 21 di gennaio 2021, 100 anni dalla fondazione del Partito Comunista, quindi è anche un'occasione per fare una riflessione anche sul sistema parlamentare italiano, che proprio in questi giorni è oggetto di riflessioni, di critiche, sempre di dibattiti. Come diciamo, da questo punto di vista, forse molte cose non sono cambiate da 100 anni a questa parte. E il video di oggi ci permette di riflettere anche sulle dinamiche parlamentari, ovviamente di un Parlamento completamente diverso, siamo nel Regno d'Italia, siamo in una situazione completamente diversa. E siamo con il film Il delitto Matteotti, del 1973, di Florestano Vancini. Vancini, classe 1926, lo abbiamo già incontrato per gli utenti di questo canale, per il film La lunga notte del 43. Un film molto, molto intenso di denuncia nel contesto della Repubblica Sociale. Siamo a Ferrara, Vancini era ferrarese, quindi è un regista impegnato e lo vedremo anche su questo film, dove la ricerca storica va sempre a braccetto con l'idea anche di rendere spettacolare un determinato evento. E se posso dire, un accostamento tra le due pellicole è sicuramente nella ricercatezza del cast. Allora io farò un discorso molto generale, poi lascio a Luigi alcune riflessioni, alcuni motivi di analisi della descrizione narrativa, nell'aspetto anche di ricerca storica dei personaggi, sull'aspetto poi reale della storia effettiva. Il film è particolarmente intenso, da sottolineare sicuramente la varietà e la bravura degli attori, a partire da Franco Nero nella parte di Matteotti, che poi tra l'altro il film, se posso dire, è un po' sbilanciato, nel senso che poi, sì, il titolo è il delitto Matteotti, poi dà l'occasione per riflettere su tante altre cose, su tanti altri personaggi, perché poi per certi aspetti Matteotti rimane, perché appunto scompare, poi sappiamo che è morto, però poi c'è tutta, offre l'occasione per una dinamica di eventi, tant'è che appunto il film si articola in un periodo ampio, cronologico, siamo dal maggio del 24 fino all'inizio del 25, col famoso discorso del 3 gennaio e con tutto ciò che ne comporta. Gli attori, a parte Franco Nero, possiamo pensare a Mario Adorf nel ruolo di Mussolini, pensiamo a Vittorio De Sica, a Gastone Moschin, a Renzo Montagnani, Renzo Montagnani che nel comune sentire è o Amici miei, Atto secondo e Atto terzo, oppure le commedie sexy, invece non pensiamo che può aver fatto anche film di un certo spessore, e che spessore, visto che appunto si intrecciano ruoli, figure che spiegano anche le contraddizioni di quel sistema di Stato, di apparato, di amministrazione pubblica, della magistratura, della polizia che passa dal regime liberale a quello pienamente fascista. Quindi un film intenso, costruito molto bene, dove veramente tutti gli attori sono bravi nel descrivere dei personaggi importanti, perché abbiamo veramente uno spaccato di tutti i più importanti politici dell'epoca, a partire da Gobetti, veramente non si può fare un elenco completo perché veramente Gramsci, Amendo, cioè veramente c'è di tutto e di più, e la cosa che voglio sottolineare e poi lascio la parola a Luigi è la grande ricercatezza nei costumi, il trucco è parrucco, nel senso che veramente Saracchi all'epoca andava per la maggiore Noschese, mi sfugge il nome, Noschese, vabbè, Alighiero Noschese, che faceva le imitazioni, ma non imitazioni solo della voce, imitazioni proprio complete, dove si camuffava, si truccava, eccetera, e quindi ho constatato come veramente lo stile Noschese è stato messo in questo film dove veramente Franco Nero sembra Matteotti, dove Adorf sembra Mussolini, dove tutti gli altri sembrano i vari personaggi. Allora, la parola Luigi per un'analisi più storica, più aderente ai fatti. Allora, tu sai, e anche chi ci ascolta lo sa, io adoro i film storici nel senso, diciamo, pretto della parola, perché chiaro ci sono dei film che si ispirano ai fatti storici, ma poi chiaramente il registro, la sceneggiatura ci mette del proprio, e ci sono quelli che invece proprio si preoccupano di ricostruire, cioè di seguire effettivamente gli avvenimenti. Questo è uno di questi. Tra l'altro lo fa, lo dico subito, poi magari ci torneremo, seguendo proprio quella che è la documentazione dell'epoca, perché, diciamo, questo film è del 73, nel 73 ancora alcune cose sul delitto Matteotti, diciamo, non è che non si erano sapute, però sarebbero venute meglio a galla negli anni a seguire, anche in anni più recenti ai nostri, però, diciamo, buona parte c'era. C'era, per esempio, uno studio, forse lo studio maggiore, era quello di Salvemini, che era uscito in due libri che lui aveva stampato dall'esilio, perché Salvemini, tra l'altro, proprio in relazione al delitto Matteotti, dopo il delitto Matteotti, era stato implicato nella vicenda del non mollare, poi era stato messo sotto processo, finito il suo processo, con l'amnistia, tra l'altro, sempre legata per far uscire i responsabili che erano finiti in carcere e spatriò e quindi poi entrò in possesso di tutto un insieme di documentazioni, per cui le carte del processo, grazie a Modigliani, deputato socialista, che era anche avvocato e che aveva seguito il processo, perché poi i processi in realtà furono più di uno. Adesso non voglio allargarmi troppo, perché poi magari vado a dire troppe cose. Però, insomma, in generale, questo è un film molto aderente alla documentazione dell'epoca e, diciamo, quindi aiuta a capire varie cose. Aiuta intanto a capire il passaggio generale, come hai detto tu, dal regime liberale al regime fascista. Infatti il film si apre nelle primisime battute con dei cartelli, potremmo dire, delle schede che mostrano le fasi principali della storia italiana immediatamente precedente, quindi Vittorio Veneto, la nascita dei fasci di combattimento, le squadre fasciste, le squadre d'azione, la marcia su Roma e quindi poi le elezioni del 24, che sono l'anticamera, diciamo, del delitto Matteotti. E poi aiuta a capire proprio esattamente le varie fasi, i vari aspetti anche. Quindi aiuta a capire, per esempio, la nascita della cieca fascista, che è la banda capeggiata da Merigo Dumini, che poi porterà a termine l'operazione. Aiuta a capire come nasce e si sviluppa l'inchiesta, che verrà messa, diciamo, in mano a due magistrati molto integerrimi, poi gli verrà tolta, quando, diciamo, l'inchiesta va avanti, prende una via che magari chi ha il governo non ama tanto, che sono Umberto, soprattutto Malo del Giudice, che viene impersonificato da De Sica, e Umberto Tancredi, che è interpretato molto bene, devo dire, da Montagnani. Soprattutto aiuta a capire il film, che dura, anche se, devo dire, poi dura un'ora e mezza, quindi non è che dura tantissimo, però è denso, intenso. Aiuta a capire le reazioni del mondo politico, in primis dei fascisti. Chiaramente emerge la bravura, l'abilità e l'astuzia di Mussolini, anche qui magistralmente interpretato da Mario Adolf, Mussolini che ovviamente gioca, inizialmente viene colto di sprovvista, almeno nella ricostruzione del film, e poi però riesce, con i passaggi giusti, a uscirne fuori in qualche modo. Non solo per meriti suoi, ma anche con azioni decise. Pensiamo, per esempio, a quando va a defenestrare Cesare Rossi, il suo braccio destro, oppure Aldo Finzi e Arturo Fasciolo, che erano sempre nel suo staff lì alla presidenza del Consiglio. Ma soprattutto le opposizioni, per converso, quindi la bravura di Mussolini, ma anche la debolezza delle opposizioni. Ci sono le opposizioni che si ritirano sulla Ventino, che sono diverse e sono divise. Le opposizioni, diciamo, da una parte a quella costituzionale, impersonificata da Amendola e da Turati, Turati che viene interpretato molto bene, sempre anche qui da Moschin, che sono fiduciosi, quasi non si preoccupano, perché pensano che come un naturale volgersi degli eventi, Mussolini sarà costretto alle dimissioni, quindi la questione rientrerà, lo stesso fascismo rientrerà e si tornerà alla dialettica dello statuto albertino, dialettica liberale. Dall'altra parte i comunisti, anche qui capeggiati molto bene da Gramsci, che tra l'altro, adesso non mi ricordo chi è che interpretava Gramsci, ma... Cucciola forse. Esatto, sì. E lo farà anche in un altro film proprio dedicato a Gramsci, quindi c'è anche una continuità, se vogliamo dire, sotto questo aspetto, e che i comunisti in realtà invece sono più realisti e ovviamente anche sono meno costituzionali, quindi pronti più all'eversione. E poi c'è anche qui che compare poco, ma viene messa molto bene in risalto la debolezza del re. Vittorio Emanuele III viene presentato come il re non solo, come dire, appartato, ma anche proprio quasi disinteressato, che si preoccupa giusto della normale amministrazione, quasi appunto il notaio, potremmo dire, che è stato scritto anche in certa letteratura. E infine aiuta a capire la società italiana del tempo. L'Italia dei prima metà degli anni venti è un'Italia, ovviamente, che ha vissuto il passaggio della guerra, però è un'Italia ancora evidentemente contadina, però con il ceto medio che sta emergendo. E non è solamente il ceto medio borghese, ma è anche il piccolo ceto medio, la piccola borghesia impoverita dalla guerra e anche, se vogliamo dire, colpita anche nella psicologia dalla guerra che forse che descrisse e definisce che tra l'altro trova nel fascismo in discreta parte, nel fascismo delle origini e poi nel regime che dopo la marcia su Roma si viene costruendo una propria dimensione. E questo lo si può vedere già dagli stessi personaggi appunto della banda Dumini, della cieca. Cioè, Amerigo Dumini, Albino Volpi, Amleto Poeromo, Augusto Malacria, che sono degli arditi che grazie al fascismo e grazie ai suoi rivisti come Giovanni Marinelli, il tesoriere, che anche qui ha interpretato molto bene i personaggi molto aderenti, riescono a godersi la vita e dispongono della vita degli altri, degli oppositori politici in questo caso. Matteo Ottima, lo stesso volendo fare storia che non rientra in questo caso nel film anche le altre azioni perché quella che era la cieca fascista aveva agito anche in precedenza, pensiamo addirittura anche contro gli stessi fascisti dissidenti. Pensiamo all'abbassionatura di Misuri, il deputato fascista che era antipatico a Mussolini, che voleva un fascismo diverso, ovviamente più costituzionale potremmo dire. Quindi questo film aiuta a capire veramente tante cose e io dico solo un'altra cosa poi adesso rilascio la parola a Giovanni lo aiuta a capire anche come dicevi tu perché i personaggi sono veramente rappresentati in modo aderente. Ora io ho letto anche qualche critica cinematografica che forse è scritta più col senno di oggi che col senno di allora divideva un po' far presentare i personaggi in maniera proprio aderente a quello che erano i personaggi veri. Non solo nel trucco ma anche magari nell'inflessione dialettale. per esempio quando parla Gramsci si nota l'inflessione sarda così come quando parla Turati si nota quella lombarda. C'è anche De Gasperi che ci siamo dimenticati Giovanni De Gasperi che ormai è lui il segretario del Partito Popolare perché Sturzo alla vigilia dell'elezione del 24 essendoci opposto alla legge acerbo con l'aiuto del Vaticano è stato repenestrato. compare tra l'altro nel film il Cardinal Gasperi compare anche Sturzo anche lui molto aderente. Ecco tutte queste cose sono state viste un po' come stile Bagaglino invece secondo me chi vede questo film può calarsi veramente può capire qual era l'Italia degli anni venti l'Italia dell'epoca e anche dal modo in cui è stata ricostruita la sceneggiatura le vie di Roma dove si muove Matteotti viene diciamo viene bastonato rapito portato dentro la macchina ucciso quindi io questo film lo trovo eccellente ecco se devo dire. sì allora la percezione che ho dopo la visione del film è quella di un grandissimo studio uno studio sia nella sceneggiatura che appunto nell'organizzazione proprio della scelta degli attori nella gestione degli attori che appunto sono di grandissima levatura è un film difficile difficile anche da comprendere perché come stiamo dicendo è un film denso denso veramente dove uno spettatore che magari non è troppo addentro ai fatti potrebbe un attimo perdersi di fronte a questo a questo ampio campionario di personaggi che fortunatamente il film è anche di Tascalico nel senso che ci li presenta ci vengono messi dei sorti di sottopancia che ci dicono chi è quello chi è quell'altro anche per riuscire a ovviamente non sia la possibilità di spiegare tutto perché non è che dobbiamo in qualche modo sapere di cosa qual era il loro vissuto come si presentavano di fronte a queste queste sorte di anche riunioni che in cui l'antifascismo il nascente antifascismo perché appunto non è che nascono antifascisti diventano antifascisti proprio perché il fascismo si sta appropriando di tutte le istituzioni pubbliche dello Stato e quindi è un film che cerca in qualche modo di spiegare di moralizzare e adesso arrivo poi al discorso dove voglio arrivare anche attraverso quello come dicevi tu i titoli iniziali nel senso di un progresso arriviamo al 24 partendo dalla fine della guerra quindi c'è questo crescendo che è anche un po' uno stile dello stesso Vancini perché anche in La lunga notte del 43 c'è qualcosa di simile in cui appunto si arriva all'autunno del 43 parlando iniziando a parlare della defenestrazione di Mussolini del 25 luglio con tutto ciò che comporre l'armistizio la Costituzione della Repubblica Sociale quindi è una grossa impegno anche culturale culturale nel senso di insegnamento per fare cinema ma fare cinema attraverso però un desiderio di informare di formare di rendere partecipi gli spettatori di eventi particolarmente importanti e soprattutto tragici della nostra storia recente e secondo me il fatto che il film venga fatto nel 73 un periodo particolarmente critico perché appunto il 73 siamo nel periodo del nascenti anni di piombo con tutto ciò che dopo il 68 gli estremi il terrorismo inizia a diffondersi i rigurgiti neofascisti paventati realizzati poi su questo potremo aprire 50 parentesi però il fatto che nel 73 in cui siamo in un periodo in cui il fascismo può essere ancora attuale può essere ancora un argomento attuale affrontare con morti e feriti perché comunque poi ancora dopo 50 anni ci sono ancora dei delitti delle stragi che non hanno piena verità e quindi da questo punto di vista partiamo da Matteotti dove poi la verità storica è emersa solo dopo un bel po' perché come dice nel film Mussolini si prende la responsabilità politica morale ma non quella penale nel senso che poi alla fine nessuno pagherà qualcuno pagherà qualcuno per interposta persona Mussolini taglia un po' di testa e manda De Vecchi scusate De Bono manda De Bono in Colonia li mette da una parte poi qualcuno verrà riutilizzato risorgerà dopo aver fatto un periodo di quarantena possiamo dire tanto per rimanere nell'attualità e quindi da questo punto di vista è un film importante per guardare anche il presente di allora perché appunto è un presente che esprime delle possibili criticità e per fare un richiamo al discorso che facevi tu di Cucciolla che ha un recupero del personaggio di Gramsci mi piace ricordare come Franco Nero che qui fa la la vittima fa la vittima designata di Mussolini nel film Mussolini ultimo atto di l'anno dopo un paio di anni dopo non mi ricordo di di Carlo Lizzani farà niente meno che il colonnello Valerio alias Walter Audizio che all'epoca si presumeva all'epoca la storia ancora non ha dato una verità sulla morte di Mussolini che il 28 di aprile del 45 abbia ucciso Mussolini quindi una sorta di corsi e ricorsi storici anche nelle interpretazioni degli attori che una volta si trovano vittime di Mussolini e un'altra volta si trovano a essere carnefici esecutori dello stesso Mussolini tra l'altro due interpretazioni completamente diverse di Mussolini quella di Adorf e quella di Rod Steiger tutte e due però molto intense nella cinematografia mi permetto di aggiungere come nella cinematografia la figura di Mussolini sia stata interpretata in tanti modi anche Enzo Castellari ha interpretato Mussolini nella serie tv venti di guerra quindi diciamo Mussolini è stato interpretato credo da una dozzina di attori da giovane da vecchio da moribondo da varie sfaccettature ma tutte molto intense soprattutto per dare uno spaccato perché poi Mussolini è pirandelliano uno nessuno e centomila in base a quello che con il re era in un modo con se doveva andare a miedere il grano era un altro personaggio se doveva andare a ordinare a qualcuno di ammazzare Matteotti era un altro ancora quindi lo vediamo anche nel film come si relaziona con i vari personaggi di cui lui è il padrone ma diventa anche un po' il ricattato perché tutti quanti diciamo diventa un pezzettino di questo mosaico perché ovviamente se lui è il mandante qualcuno poi si potrà ribellare dove fa da capo espiatorio di colpe solo parzialmente sue quindi è un film che ci dice tutto questo attraverso appunto un raccoglimento cioè un film concentrato sembra che esploda per la grande la grande presenza di attori di personaggi che interpretano personaggi di un certo livello che interpretano situazioni momenti della storia di quella di quei dieci mesi possiamo dire di quei otto mesi grosso modo che veramente è il periodo in cui forse ancora c'era la possibilità di di evitare il peggio però per tutta una serie di motivi per l'incapacità delle opposizioni a fare fronte comune la bulia del re tanti elementi che hanno portato la maestria di Mussolini stesso perché poi non è che uno dice non è che era uno sproverso è uno che era capace a fare il mestiere suo il dittatore lo aveva già imparato quindi in questo gli diamo questo merito se così si può dire diciamo in senso anche il diavolo ha dei meriti diciamo nel fare il diavolo quindi in questo lo e il film racconta tutto questo e il proponimento che mi do e do a chi ci ascolta è vederlo più volte perché vederlo una volta sola ti permette di farti un'idea ma non hai poi tutte quelle sfaccettature quelle ricercatezze che si si acquisiscono si apprezzano solo dopo una una conoscenza più approfondita perché diciamo sono come tanti piccoli si potrebbe sviluppare farci una serie di almeno cinque sei film perché ogni ogni quarto d'ora potrebbe essere sviluppato e reso un film a sé stante per la 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 ricercatezza anche lo sviluppo di eventuali personaggi perché poi ogni personaggio il giudice il il ministro perché per dire De Bono è rinchiuso in un cioè su De Bono quanto si potrebbe dire di quel periodo appunto il il rapporto essendo comandante della milizia capo della polizia con tutto ciò che comporta il essendo poi tra l'altro lui un ex generale dell'esercito monarchico quindi c'è tutto anche delle logiche psicologiche delle logiche interne di equilibrio perché appunto il fascismo è stato un costante rimescolamento di carte geometria variabile in cui è come una sorta di trama cioè qualcuno scendeva e qualcuno saliva magari qualcuno poi faceva il giro e risaliva dopo dieci fermate risaliva perché nel frattempo si era purificato delle colpe e quindi in qualche modo ritornava in auge perché poteva sempre fare comodo un po' come altri altri personaggi allora tu hai da da chiudere con due parole sì giusto due cose allora la prima è che mi è venuto in mente avrei voluto dirlo prima ma poi mi era passato quando tu dici giustamente il film si concentra poco su Matteotti si concentra molto infatti si dovrebbe dire forse effettivamente che parla della vicenda di Matteotti perché appunto è proprio il momento di passaggio e forse come detto veramente l'ultimo atto l'ultimo respiro l'ultimo canto del cigno potremmo dire del regime liberale anche se io voglio fare una nota storica su questo perché poi c'è tutto un dibattito come tu saprai bene gli storici hanno discusso su quando effettivamente nasce il regime fascista se nasce dopo la marcia su Roma come sostenevano i primi storici antifascisti o se nasce soprattutto dopo il famoso discorso del 3 gennaio che tra l'altro è una delle ultimissime scene del film molto nota si trova prima che il film per chi non l'abbiamo detto io mi permetto di dirlo è presente completamente su youtube da un po' di mesi ma anche quando non era presente la scena il discorso di Mussolini era presente perché è un pezzo di storia del cinema quindi è molto nota e anche un pezzo di storia d'Italia quindi De Felice per esempio sosteneva che il regime fascista cominci dopo il 25 in realtà io sono dell'idea che buona parte della costruzione di quello che sarà lo stato fascista almeno a livello di fondamenta comincia a porsi già l'indomani della marcia su Roma cioè Mussolini già l'indomani della marcia su Roma io l'ho scritto anche come tu sai la settimana scorsa in un articolo che ho fatto sulla rievocazione della milizia la milizia è uno dei primi passaggi per la costruzione del regime poi ci sarà la legge Acerbo ci sarà il famoso decreto sulla stampa che verrà addirittura nella prassi costituzionale o sempre come diceva Salvemini incostituzionale italiana viene fatto firmare da Rem ma viene pubblicato solo dopo quando serve durante proprio la crisi di Matteotti quindi insomma diciamo il delitto Matteotti fa venire allo scoperto tutto un insieme di situazioni che poi si concretizzeranno effettivamente nel regime pieno perché questo è vero dopo il 3 gennaio del 25 inizia l'opera di demolizione e anche qui tra l'altro sempre nel film una delle scene mi è venuta in mente sempre un'altra cosa che dicevi quando dicevi Mussolini è ricattato viene fatto vedere molto bene l'incontro drammatico tra i comandanti della milizia che vanno a Mussolini a Palazzo Chigi per gli auguri di Natale ma col pretesto degli auguri di Natale gli impongono di prendere in mano la situazione quindi Mussolini il discorso del 3 gennaio lo fa anche per far capire al suo partito che sognava effettivamente la cosiddetta seconda ondata quella sognata da Farinacci anche Farinacci è presente molto bene per questo anche per tutte queste ragioni a me questo film piace ecco fa capire che effettivamente la seconda svolta è arrivata però lo fa sempre a modo suo e qui c'è sempre come dire Adolf secondo me qui l'ha interpretato forse meglio di chiunque altro perché Mussolini è truccato molto bene è presente molto bene è doppiato ovviamente la voce non è quella di Adolf è di un doppiatore con l'accento romagnolo però secondo me effettivamente emerge veramente quello che poteva essere perché ovviamente noi non l'abbiamo visto il Mussolini degli anni venti poi qualche altra cosa uno dei motivi per cui io consiglio vedere questo film è che nonostante sia di Rascali nonostante diciamo ripercorra fedelmente la vicenda non si prenda licenze poetiche rimane comunque un film non è un documentario perché pochi lo sanno ma sul deletto Mattelotti già c'era stato un film nel 56 di Nello Risi film che in realtà era un cortometraggio e quello era più un documentario perché non aveva dei veri e propri attori o meglio non aveva degli attori gli attori principali non erano messi in scena venivano ripercorsi immagini e filmati dell'epoca con un commento e con sì degli speaker diremo oggi allora diremmo dei commentatori delle voci che ripercorrevano quelle che potevano essere nelle discussioni alla camera durante il discorso di Matteotti che viene più volte interrotto oppure nei successivi discorsi di Mussolini perché sappiamo Mussolini inizialmente diciamo proverà a buttare acqua sul fuoco poi quando ci sarà la scoperta diciamo sarà evidente che Matteotti era quantomeno sparito poi in agosto verrà addirittura ritrovato il cadavere Mussolini cerca comunque sempre di frenare quindi ecco anche questo emerge questo film veramente sono meglio consiglio di vederlo ecco adesso non voglio dire altro e ci abbiamo alla conclusione bene prima di chiudere un accenno ultimo una fotografia bellissima nel film c'è veramente un colore che ci porta non solo ai colori del cinema degli anni 70 ma anche a tutta una ricercatezza nella costruzione veramente sembra quasi di tornare negli anni 20 con con l'ambientazione sono film che non li fanno più questo non è un luogo comune dire dover parlare per forza bene del passato e dire cose però c'è un un artigianato un artigianato nel cinema che si è perso anche a livello di costumi di diciamo purtroppo troviamo sempre più cose un po' dozzinali un po' televisive per per spettacolarizzare anche con svarioni perché poi negli ultimi anni senza dover fare dei commenti specifici sono state delle delle produzioni televisive soprattutto veramente fatte con i piedi che diciamo ci a confronto veramente il film di 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 vancini avrebbe dovuto meritare 50 oscar a confronto con certe porcherie degli ultimi anni allora detto questo io saluto tutti gli utenti del canale che cresce giorno dopo giorno vi invito a mettere mi piace iscrivetevi alla prossima ciao ciao